Terra Amara, Trame Turchia, Yaman viene denunciato un anonimo per l'omicidio del cugino. Nuovi problemi in arrivo con la giustizia per Demir Yaman, nelle prossime puntate di Terra Amara. Il marito di Zuleyya sarà chiamato a rispondere di un omicidio che non ha commesso. Come è accaduto già in passato per la morte dell'amico Cengaver. Infatti, come svelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia. Demir verrà convocato in commissariato da Yulide la quale gli comunicherà che un anonimo lo ha denunciato per l'omicidio di Ercument. In realtà, l'assassinio è avvenuto per mano di Yilmaz, il quale dopo aver visto l'atroce violenza commessa dall'uomo ai danni di Gulten vendicherà l'amica. Proprio perché il suo nemico ha agito per l'onore della loro domestica, Demir deciderà di tacere la verità al pubblico ministero. Ma per quanto tempo deciderà di proteggere Aqqaia? Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sulla figura di Demir? Seguendo la storiline della seguitissima SOP turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Yulide deciderà di convocare in commissariato Yaman per comunicargli una brutta novità. Il pubblico ministero affermerà che un'anonima ha deciso di denunciarlo per l'omicidio di Ercument. Scioccato per la notizia, Demir immediatamente negherà di essere implicato nell'uccisione del cugino e al contempo deciderà di non rivelare a Yulide che a far fuori Ercument è stato Yilmaz in seguito alla violenza carnale subita da Gultena. La scelta di proteggere il suo nemico giurato, un cui nel frattempo le tensioni aumenteranno e dismisura. Non sarà però definitiva. Infatti, rientrato a casa, Demir conferirà subito con sua madre a cui spiegherà i motivi della convocazione da parte della Guardia Civile. Demir, convinto che dietro la denuncia ci sia ancora una volta la cugina Sermin, dirà a Unkar che non sarà disposto a difendere per sempre Yilmaz, se per lui la situazione dovesse farsi critica non esiterà a fare il nome del suo nemico. La conversazione tra Demir e Unkar, però, non resterà privata. Zuley ascolterà di nascosto quello che si diranno madre e figlio e capirà che dietro la morte di Ercument c'è Yilmaz ma non riuscirà a comprendere bene i motivi che hanno spinto l'uomo che ama a commettere un omicidio. Per questo, Altun chiamerà subito al telefono Yilmaz e gli darà appuntamento presso una casa abbandonata per poter parlare della questione. Yilmaz, vista l'urgenza con cui Zuley gli chiederà di incontrarsi, accetterà ma non riuscirà a tenere completamente segreto l'appuntamento. Per scoprire cosa succederà nei passaggi successivi non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di terra amara. Grazie. 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 Grazie.